Ciao a tutti, sono Patrick Baldassarre. Mi hanno detto che voi tifosi di Fabriano siete belli carichi, eh? Finalmente un vedevo l'ora, anche perché dopo questo anno e mezzo di Covid c'è proprio bisogno di sentire un ambiente bello caldo ed esultare insieme. Insieme. Speriamo che lo faremo il più possibile, però intanto vi mando un grosso abbraccio, non vedo l'ora di iniziare e a sto punto forza Fabriano! Ciao, a presto!